Il primo soggetto Ma che succede? Niente, l'ho deluso. Come insegnante e come uomo. Ma non dire così. Tu non sei un uomo, sei un quindicenne con un corpo d'adulto. Sembravi così intelligente con quel libro. E poi, Mimmo, il suo scopo l'ha raggiunto. Si è rimesso insieme alla tipa e finalmente... Leo, ma tu pensi solo al sesso? Ciascuno di noi nella vita deve avere un ideale. Si, questo è vero. Ci vuole un obiettivo. Sulla come fai a fallire? Avremmo dovuto lasciare Mimmo alle sue poesie Ma no, almeno adesso non soffre più, no? Leo, se tutti pensassero solo a rimorchiare, nessuno scriverebbe d'amore E non ci sarebbero state persone come Pascoli, Carducci o Leopardi Scusi? Sì, dica Retro di latte, spazzalmente scremato Eccolo, lei Prego Rivederla Dicevamo? Ah sì, Leopardi Leopardato Era decisamente un tanga leopardato Sicuro? Confermo, leopardato